La giornata di oggi 12 febbraio 2021 è unica più che curiosa, infatti i numeri che la compongono sono palindromi, ossia se si leggono al contrario i numeri della data odierna si potrà comunque leggere le medesime cifre, ovvero 12 02 2021. I più curiosi hanno anche notato che sebbene questo sia un caso che può essere riscontrato diverse volte, il 12 02 2021 rappresenta anche un ambigramma, la data può infatti essere letta anche se la si ruota di 180 gradi, sotto sopra insomma.